Che abbia inizio l'ultimo giorno Ok, dai si parte con l'ultimo vloggero E benvenuti amici, come diceva Mattia, nell'ultimo episodio di Bali Nello scorso episodio avevo detto che mancavano tre giorni alla fine del viaggio Ed oggi vi sto dicendo che questo è l'ultimo episodio Quindi, come ben capite, ieri ce la siamo presa di riposo Cosa molto importante, secondo me, quando si fa un lavoro in un viaggio Prendersi almeno un giorno di riposo per comunque godersi il posto Perché è vero che veniamo qua a far video Ma è vero anche che dobbiamo star bene e dobbiamo divertirci Ed anche perché Mattia è ancora KO Dopo la moto da Cross ha dato le ultime sue energie Ha dato veramente quello che poteva e ha finito la vacanza Allora Mattia, tutto a posto? È stata veramente faticosa Adesso ho bisogno di un occhi perché sono morto Bye, sono il bye Che poi lo devo ammettere, abbiamo appena fatto colazione Mi è un po' mancato far vlog e parlare davanti alla telecamera ieri Oggi mi sento veramente bello carico Infatti l'episodio di oggi sarà un episodio un po' particolare Perché naturalmente siamo un po' tra virgolette di fretta Dobbiamo fare le valigie e tutto Quindi sarà un ricordare questa vacanza Sarà un grande timelapse dei momenti più belli di questa vacanza È vero Forse io sono un po' di parte Perché dall'anno scorso Da quando sono atterrato per la prima volta in Asia Mi sono veramente innamorato di questo posto E non ho più voluto viaggiare in altri posti se non qui Quello che mi affascina principalmente sono le persone Puoi veramente ridere, sorridere, conoscere, entrare in confidenza con le persone Solamente dopo un minuto che le hai conosciute È veramente qualcosa di inconcepibile per la mente occidentale Perché noi siamo abituati a mantenere un piccolo gap sempre Una piccola distanza con le persone che conosciamo Siamo abituati a avere i pregiudizi Siamo abituati a guardare le persone in maniera storta Se non ci vanno a genio Ecco perché questa cosa è una delle prime cose Che mi fa veramente amare l'Asia Un'altra cosa che amo profondamente Oltre alle persone È naturalmente il clima e i paesaggi mozzafiato È arrivato il momento tanto odiato Quello è il nostro tassista Queste sono le nostre valigie E lasciamo Bali Droni c'è che non va Uno Due It's ok short It's ok Meno cari Sì possiamo spendere tanto come una qualsiasi vacanza Però se si comincia veramente a conoscere il posto Se si comincia veramente a saper dove andare Si risparmia veramente tanto Io consiglio veramente a tutti A chi vuol cambiare vita A chi magari ha uno stipendio A una pensione A un reddito Di provare la vita qua Almeno sei mesi E poi tirare le proprie conclusioni E pensare ieri Che mi sono fatto i capelli Con un euro e quaranta Dal barbershop Quando in Italia Spendo circa 25-30 euro Una roba Veramente da pazzi Pizze Mentre la fassi Guarda c'è qua E' arrivato il momento Peggiore della giornata I souvenir Ci siamo Si riparte E' vero E' reale E' reale E' reale Siamo arrivati all'aeroporto Assolutamente Una delle esperienze Migliori fatte Nella vita Ci sono state Veramente Tante prime volte Qui a Bali Come il surf Il motocross Per la prima volta Come il veder l'alba Su un monte E come il distruggere Un drone In un laghetto Ma noi siamo Senza bellotto Scusate Ok amici Siamo dentro Ok amici siamo dentro Siamo dentro E adesso vi lasciamo Ai nostri momenti migliori Qui a Bali 1, 2, 3 Ultra Rosa E' resuscitato Oh Matti, ho appena finito di montare l'ultimo episodio di Bali e ti volevo dire che mi rendo conto che questa avventura senza di te non sarebbe stata la stessa Grazie mille bro Fantastic